Buongiorno carissimi amici, buon inizio settimana. Martina Reoloni in studio oggi per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Siamo a lunedì 19 luglio. Andiamo subito assieme a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con i Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica coronavirus. Positivi, 9 atleti bellunesi dopo il viaggio in Francia. 80 aspiranti maestri di sci erano partiti dall'Italia per un corso a Le Dos Alpes. L'articolo è di Paola Dallanesa, pagina 14 e andremo a leggerlo a brevissimo. E sempre a proposito di coronavirus c'è un'intervista ad Andy Varallo che è il presidente del Doromiti Superski, il quale dice Green Pass per poter sciare. Parte l'appello del Superski, si legge appunto nel lancio dell'articolo. E poi ancora San Gregorio nelle Alpi. Acri in lutto per la morte del presidente Flavio Cadorin. È scomparso nella giornata di ieri, ricordo dei figli, degli amici e dei colleghi. Era una persona dinamica, voleva dare più spazio ai giovani. C'è l'articolo di Paola Dallanese a pagina 16. E ancora tre incidenti sulla Feltrina, tre feriti, grave una donna. Sei auto coinvolte, pomeriggio disastroso, ieri sul tratto della strada regionale Feltrina che va da Quero al confine con Segusino. C'è appunto un articolo di curto a pagina 22. Andiamo proprio a pagina 16 subito per leggere della notizia relativa alla scomparsa di Flavio Cadorin. Siamo a pagina 16, come dicevamo. Addio Flavio Cadorin, presidente delle Acli. Voleva dare sempre più spazio ai giovani. La notizia ha fatto il giro della provincia lasciando chi lo conosceva nello sconforto. Domani i funerali a San Gregorio. Flavio Cadorin era una persona molto conosciuta. Lutto nel mondo dell'associazionismo. Nella notte tra sabato e domenica si è spento all'ospedale di Feltre dove era ricoverato da qualche giorno per grave insufficienza respiratoria, Flavio Cadorin, presidente provinciale delle Acli. Lascia i quattro figli Dimitri, Manuela, Sabrina e Shaila e tutti gli altri parenti. La moglie era venuta a mancare diversi anni fa. 72 anni, residente a San Gregorio nelle Alpi, Cadorin era suo secondo mandato a capo delle Acli provinciali. Era stato rieletto nell'ottobre 2020 dopo aver concluso suo primo incarico quadriennale. Malgrado non stesso e già allora troppo bene, aveva accettato ugualmente di presiedere l'associazione. Persona molto dinamica, dopo suo ingresso nelle Acli, aveva fin da subito cercato di introdurre le nuove generazioni. La sua era una presidenza del fare, ricorda Tommaso Zampieri, a capo del CAF Acli. Era una persona molto concreta, operativa, che aveva a cuore il futuro di questa provincia. Partecipava sempre alle riunioni, anche a livello regionale, dove ricopriva un ruolo nella segreteria. Sicuramente tutto il mondo Acli sentirà la sua mancanza perché, oltre a essere un presidente molto presente, era un combattente che si è sempre distinto per il suo spirito di intraprendenza. non si fermava davanti a nulla. A vent'anni Cadorino era partito per l'estero con la dita di costruzione del Favero, era rimasto quattro anni in Nuova Zelanda. Si legge appunto in questo ricordo della sua figura. Dopo sposato era ripartito per il sud Italia dedicandosi all'edilizia abitativa e da qui era andato a Torino per realizzare il lingotto. Da pensionato poi si era dedicato all'associazionismo entrando a far parte delle Acli. Per lui era un modo per fare qualcosa a favore della sua terra. Il suo obiettivo era quello di unire il mondo delle Acli, racconta a Franto il figlio Dimitri. Mio papà voleva che anche l'associazione uscisse un po' da quella patina datata che la circondava lasciando entrare i giovani. Quindi spazio appunto alle figure più giovani e alle nuove generazioni. L'articolo è di Paola Dallanese. E cambiando argomento e tornando indietro parliamo del focolaio al corso per i maestri di sci. In nove tornano positivi dalla Francia. Parliamo appunto della pandemia nel Bellunese. Sono stati contagiati otto ragazzi e un istruttore che aveva completato il ciclo vaccinale in isolamento a tutti i partecipanti. Focolaio al corso per aspiranti maestri di sci e snowboard. Nove dei dodici che vi hanno partecipato sono tornati dalla Francia positivi al Covid. Contagiati otto ragazzi tra i 19 e i 20 anni e un istruttore che aveva già ultimato il ciclo di vaccinazione contro il coronavirus ed era in possesso della Green Card. Attualmente i nove positivi ma anche tutti coloro che hanno partecipato al modulo formativo sono stati posti in auto isolamento nelle loro residenze dopo il rientro anticipato in Italia lo scorso venerdì. Potranno uscire soltanto sabato per sottoporsi al tampone. L'USDolomiti tramite il Dipartimento di Prevenzione ha avviato immediatamente le procedure di tracciamento su tutti i loro contatti per individuare altri eventuali contagiati e limitare così i propagarsi del virus. Tutti i tamponi sono stati inviati per il sequenziamento all'istituto zoo profilattico per conoscere se il virus che li ha infettati è riconducibile alla variante indiana, la famosa variante Delta. A organizzare il corso di formazione sul ghiacciaio francese, le Dos Alpes a 3000 metri di quota è stata l'associazione dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia. E vi hanno partecipato un'ottantina di atleti tra i 19 e i 20 anni, alcuni istruttori provenienti non solo dal Friuli ma anche da Veneto, il Tantino Alto Adige, Piemonte ed Emilia Romagna. Tra questi i contagiati sono una trentina di cui nove appunto bellunesi. La prima positività, ha spiegato Alessandro Pandolfo, presidente dell'associazione organizzatrice, è stata riscontrata venerdì in Francia. A quel punto l'intero corso è stato sospeso e i partecipanti sono stati rimandati a casa. La maggior parte dei ragazzi è risultata sintomatica o con pochi sintomi, solo alcuni avevano febbre alta appunto come diceva, come si diceva all'inizio dell'articolo. In questo articolo che porta la firma di Mattia Pertoldi e Paola Dallanese si dice anche che queste nuove positività riscontrate tra gli atleti del corso di formazione per maestri di sci si vanno ad aggiungere ad altre sei registrate nelle ultime 24 ore in provincia. Fanno balzare a 102 gli attuali contagiati, un numero che fa capire come il virus stia circolando bene soprattutto tra i giovani che forse non si attengono strettamente alle regole contro il Covid-19 come si legge appunto nell'articolo. E tornando indietro e parlando sempre di pandemia, di coronavirus, Dolomiti Supeschi guarda già al futuro, stiamo spingendo per questa soluzione, garantiremo vacanze in sicurezza. Si sta parlando di andare sugli sci con il Green Pass, è la soluzione per un inverno al top, a dirlo è il presidente Varallo. L'intervista è di Francesco Dalmas. Per evitare il tracollo dell'industria dello sci, il prossimo inverno si entrerà in pista esclusivamente col Green Pass ma senza ulteriori limitazioni, né contingentamento né chiusure di rifugi. Lo chiedono gli impiantisti a cominciare da Andy Varallo, presidente di Dolomiti Supeschi e da Renzo Minella, presidente regionale di Anef. L'estate non sta andando bene per il meteo che sconsiglierebbe la montagna ma anche perché laddove si apre non si trova personale sufficiente. A parlarne appunto è Varallo che gestisce il più grande hub mondiale, 12 zone sciistiche per 1.246 km di piste. Parlando di Green Pass, stiamo lavorando su questa ipotesi, dice Varallo, a livello nazionale secondo noi è l'unica vera soluzione. Green Pass può garantire una vacanza in sicurezza e dobbiamo arrivare a questo anche per la clientela estera. Già con il mercato europeo arriveremo un buon 90% di copertura della clientela, io farei subito la firma se così accadesse per l'inverno. Però attenzione, il Green Pass da solo non basta. Ci vogliono infatti anche le linee guida. Noi avremo tre regolamenti distinti tra Trentino, Veneto e Alto Adige in questo momento. Le due province autonome hanno libertà di scelta. Il Veneto si deve allineare al regolamento nazionale. Questa situazione d'estate è digeribile perché il trasporto è abbastanza limitato d'inverno, però non possiamo assolutamente pensare di non avere un regolamento univoco. Quindi sì al Green Pass e anche a delle linee guida a regolamenti univoci come abbiamo appena letto nell'articolo. Andiamo avanti e leggiamo ancora la notizia che riguarda gli incidenti che si sono verificati ieri sulla Feltrina. Una domenica complicata e anche abbastanza dagli esiti anche gravi. Caos incidenti sulla Feltrina, quattro feriti, grave una donna. È stato un pomeriggio disastroso tra Quero e il confine con Segusino. In poco più di due ore, tre distinti episodi e sei auto coinvolte. L'articolo è di Roberto Curto. Tre incidenti nello spazio di poco più di due ore racchiusi in una manciata di chilometri. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui una donna di Tarzo trasferita con l'elicottero a Treviso con un gravissimo trauma all'avambraccio e sei veicoli pesantemente danneggiati, almeno un paio destinati quasi certamente allo Shvascia Carrozze. Un pomeriggio da dimenticare lungo la strada regionale Feltrina nel tratto che da Quero arriva al confine con la provincia di Treviso. Incidenti che tra l'altro hanno creato parecchi problemi alla viabilità soprattutto quella di rientro di chi aveva trascorso la giornata in montagna e stava rientrando a casa. L'incidente più grave è accaduto alle 17 lungo appunto la Feltrina poco distante dallo svincolo per il ponte del Fante. Protagonista una famiglia trevigiana con sei persone a bordo di una Mitsubishi, una sorta di SUV. A bordo sono sei e alla guida c'è un uomo della classe 1945. Il gruppo era salito presto nel Feltrino e si era ricato al refugio Boz per assistere al concerto di due chitarre organizzato dal CAI di Pieve di Soligo. Il veicolo stava scendendo in direzione Treviso quando per una distrazione un malore piega verso destra, entra nella stretta scarpata all'autostrada, distrugge un grande cartello stradale e dopo una carambola resta coricato su un fianco. Tutti escono più o meno ammaccati con le loro gambe tranne un uomo di 66 anni, la donna di 66 anni che si trovava seduta a fianco dal guidatore. Il suo vanbraccio è rimasto schiacciato, i sanitari devono operare con la massima cautela. È stata portata appunto in elicottero e trasferita all'ospedale di Treviso dove in serata era già programmato un intervento per cercare di salvare il braccio, per cercare di salvare l'arto. Alle 15 c'è stato un incidente proprio di fronte alla pizzeria alla rotonda, ferite due donne fortunatamente in modo non grave. E poi ancora alle 17.30 al confine tra Fenere e Segusino sul ponte che solca il Piave c'è una carambola che coinvolge tre auto, una 500, una Mercedes e un Alfa Romeo Giulietta. Danni a tutte tra le auto e un ferito anche qui traffico in tilt e rallentamenti. Quindi decisamente una domenica impegnativa per i soccorsi, la macchina dei soccorsi e le forze dell'ordine. Passiamo ora al gazzettino e ci fermiamo subito alle prime pagine, quelle che riguardano l'edizione del Nordeste e anche le notizie di carattere nazionale e leggiamo quello che riguarda la lotta alla pandemia. Obbligo di Green Pass, le tappe dei tecnici per arrivarci in fretta. Gli esperti di CTS, Istituto Superiore di Sanità, proporranno a Draghi la massima estensione del QR Code, tra le richieste e l'uso della certificazione anche per i ristoranti se si mangia al chiuso. Sarà compiuto tra domani e mercoledì il primo passo verso l'estensione dell'uso obbligatorio del Green Pass. La cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute si riunirà per analizzare i dati. Da ciò che filtra, la sintesi sarà tutt'altro che incoraggiante. Entro fine agosto si teme una crescita esponenziale di nuovi contagi, come i tempi più bui e duri della pandemia. Il Lazio, ad esempio, è già in allarme. In una settimana ha triplicato i casi, passando da 475 a 1.414 positivi. Ed è la regione, seguita dalla Sicilia, che registra la crescita maggiore del virus, trainato dalla variante Delta e dai festeggiamenti per gli europei di calcio. Grazie alla diffusione del vaccino, con 34 milioni di italiani che hanno ricevuto la prima dose, le terapie intensive e le aree mediche non sono in sofferenza. La prova, a fronte di 3.127 nuovi positivi, ieri sono stati registrati appena due ricoveri in terapia intensiva e 25 nei reparti. Questo quadro però vede frenare la campagna vaccinale e ci sono ancora 2,4 milioni in Italia di over 60 da immunizzare e i giovani che sono diventati le vittime preferite della variante Delta. L'età media dei contagiati è scesa 28 anni. Quindi CTS, Istituto Superiore di Sanità e della Salute, suggeriranno un'estensione ampia del Green Pass, sia per scongiurare nuove chiusure in vista dell'impennata dei contagi, sia per spingere la campagna vaccinale. Chi disporrà del codice QR potrà fare una vita pressoché normale, andare al cinema, teatro, tifare negli stadi, decidere di sentire un concerto, viaggiare su un treno, una nave, un aereo, tuffarsi in piscina, allenarsi in palestra. Chi invece rifiuterà il vaccino ogni volta dovrà fare un tampone. In più la cabina di regia tecnica, per spingere i cittadini al completamento del ciclo vaccinale, suggerirà di rilasciare il Green Pass soltanto dopo due dosi. La sintesi di queste proposte spetterà Mario Draghi, che dopo il vedetto dei tecnici riunirà la cabina di regia della maggioranza. E qui la mediazione, nonostante in passato il governo abbia sempre seguito le indicazioni degli scienziati, una mediazione che si annuncia tutt'altro che semplice. E per quanto riguarda la pandemia nel Veneto, Zaia ha detto più controlli sugli arrivi in Veneto, stretta sugli aeroporti. Il governatore, campagna di tamponi aggressiva, ordinanza pronta già nella giornata odierna. A Venezia raddoppiano le linee per gli screening. Si tornano a stringere le maglie dei controlli negli aeroporti veneti per frenare la diffusione delle nuove varianti del Covid. Il governatore del Veneto sta lavorando già da un paio di giorni ad una nuova ordinanza per incentivare già da oggi controlli agli arrivi negli aeroporti, nel porto e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. In buona sostanza imporrà i tamponi obbligatori a tutti i passeggeri provenienti dai paesi a rischio. Per ora sono soprattutto Inghilterra, Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Le US competenti per lo scalo intercontinentale Marco Polo di Venezia, il Canova di Treviso e il Sulu di Verona si occuperanno dell'incarico, nel caso di Venezia probabilmente delegando gli staff dell'ospedale Villa Salus e del centro di medicina come avvenuto già nei mesi scorsi quando la pandemia era ancora nella fase più virulenta. Zaya conta di firmare l'ordinanza già oggi in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva e i controlli riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano, scusate, i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. I numeri nel frattempo in Veneto stanno crescendo e come stanno crescendo in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'edizione di Belluno del Gazzettino anche qui la notizia di apertura riguarda il contagio degli otto maestri di sci. I bellunesi erano in Francia al corso per diventare istruttori che era stato organizzato dal collegio dei Friuli Venezia Giulia. Sono rientrati tutti a casa mettendosi in isolamento a far scattare l'allarme, i sintomi, malessere e febbre. E c'è appunto questa notizia. Un'altra notizia, e si parla sempre della scuola nella pandemia, siamo nella prima dell'edizione di Belluno del Gazzettino, nelle classi mancano quasi 600 insegnanti, rebus ripartenza, si legge, l'allarme dei sindacati, situazione di incertezza, pareri diversi tra ministeri, settimana chiave per le emissioni in ruolo entro agosto le supplenze. Per il normale avvio dell'anno scolastico 2021-2022 in provincia di Belluno mancano 591 insegnanti. Sono questi i dati pubblicati sul sito dell'ufficio scolastico di Via Mezzaterra. E non si sa quanti di questi possano essere coperti da nuove emissioni in ruolo, né quanti rimarranno invece da segnare tramite supplenze. Sono tutte ipotesi, dice Rorella Benveniù, responsabile scuola della CISL, e nella stessa condizione si trovano sia l'ufficio scolastico provinciale che quello regionale. Più precisamente siamo nella situazione che mentre il MIUR ha chiesto di stabilizzare gli insegnanti, il Ministero di Economia e Finanza ancora non ha autorizzato questo passaggio ed è un vero e proprio paradosso in sostanza ma anche il consenso alla spesa. La questione non è legata naturalmente alla sola provincia di Belluno perché prevede una spesa maggiorata per un plotone di 591 insegnanti e questo non è un problema. Lo diventa quando questo numero si somma a quelli degli altri plotoni sparsi per la penisola tanto da generare un vero e proprio esercito. E c'è la questione dei tempi da rispettare per garantire l'avvio dell'anno scolastico con il maggior numero possibile di insegnanti in cattedra. Se oggi per esempio il MEF autorizzasse la stabilizzazione chiesta dal MIUR dice ancora Benvenu non è detto che non si riesca a fare un buon lavoro. Il MIUR ha infatti imposto una tabella con scadenze strette. Martedì si chiudeva la prima fase di missione in ruolo con la quale è stato chiesto alle persone convocate la scelta della provincia. In Veneto ed altrove si pesca dalla graduatoria esaurimento e dai concorsi ordinari degli anni 2016-18 e 20 ma in questo momento nemmeno in via Mezzaterra conoscono i numeri quindi la situazione è veramente complicata. E l'altro punto dolente per l'avvio dell'anno scolastico che inizierà il prossimo primo settembre sono le figure dei dirigenti scolastici. Pur in mancanza delle disponibilità ufficiali delle sedi da coprire è possibile azzordare qualche ragionamento. Oltre ad un pensionamento sarà necessario individuare altri tre dirigenti scolastici visto che gli istituti comprensivi di Alleghe, Cencenighe e Longarone hanno riconquistato la loro indipendenza amministrativa e non saranno più accorpati ad altre realtà. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo di Giovanni Santin corredato anche da infografica che mostra quanti insegnanti mancano in provincia in base all'ordine e grado delle scuole. Sul gazzettino in un altro articolo di Roberto Dell'Olivo si torna a parlare della morte di Davide Bristotto. Oggi la verità dall'autopsia. Il 18enne mercoledì non si è risvegliato, indagato il medico che lo aveva visitato a pronto soccorso di Belluno e poi dimesso. Ieri la nazionale Under 17 di Volle in cui milita il fratello ha dedicato a lui il quarto posto al campionato europeo. È prevista oggi l'autopsia per fare chiarezza sulla morte del 18enne Davide Bristotto trovato senza vita nella sua abitazione di sedico. Il ragazzo che viveva con la famiglia martedì sera era stato visitato a pronto soccorso di Belluno e dimesso dopo essere stato sottoposto alle analisi del sangue. presentava cervicalgia e conati di vomito. La procura della Repubblica è scritto nel registro degli indagati il medico che ha eseguito la visita e procede con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. All'autopsia parteciperà anche il medico, anche la famiglia ha provveduto a nominare un proprio consulente tecnico che parteciperà appunto insieme al medico e il consulente e un altro consulente tecnico. Sono i due consulenti nominati dalle parti in causa. Quindi oggi l'autopsia che farà chiarezza su quanto accaduto, sulle cause della morte del giovane 18enne di sedico. In un'altra pagina del gazzettino si parla dello schianto fatale sulla gordina. Restano un mistero le cause. Stiamo parlando dell'incidente accaduto nei giorni scorsi. È stata ordinata l'ispezione cadaverica sulla salma di Carla Scola di 47 anni. La data del funerale verrà fissata al termine dell'indagine ancora in corso. Sarà eseguita l'ispezione cadaverica sulla salma di Carla Scola. La data del funerale non è ancora stata fissata. All'indomani del tragico scontro frontale tra l'auto della 47enne, un furgoncino che trasportava prodotti latte buschi a Caprile, l'impressione in valle ancora molto profonda. Oggi potrebbe essere concesso in nulla osta. Intanto si è diffuso in tutto la gordina il cordoglio per la scomparsa della donna, conosciuta come una brava operatrice soggio-sanitaria, ma dalla quotidianità travagliata che le ha reso difficile la vita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di sabato. Carla Scola, nata nel 74, era originaria di Santo Maso Gordino, qui ha vissuto la sua giovinezza. La vittima aveva un figlio di 30 anni che vive a Feltre. E appunto in questo articolo di Raffaella Gabrielli viene spiegato che verrà eseguita l'ispezione cadaverica sulla salma per conoscere esattamente le cause dell'incidente e quindi della morte. Leggiamo l'ultimo articolo prima di chiudere e ci spostiamo in Cadore. A Domegge dove c'è stato un capitello di velto, la statuetta del santo gettata nella scarpata, un atto di vandalismo sacrilego lungo il sentiero che porta a Piande d'Aosto, una zona partata ma facilmente raggiungibile. L'articolo è di Giuditta Bolzonello. Chiunque può aver fatto quella stupidata, quella è una zona molto frequentata e facilmente accessibile. Comunque è un gesto da condannare. Non ha dubbi un abitante di Domegge dopo che la piccola edicola che salutava i viandanti sul sentiero che porta a Piande d'Aosto è finita nella scarpata e la statuetta di Sant'Antonio ha fatto la stessa fine. Da capire se è un gesto umano, ed è un'ipotesi che azzarda il parroco Don Simone Ballis, oppure non sia la conseguenza del maltempo, del periodo con le piogge e il vento ad aver danneggiato il piccolo capitello. La prima impressione però non lascia dubbi all'atto vandalico. Sarebbe successo tra venerdì e sabato, la zona è fuori mano, ma facile da raggiungere lungo una strada boschiva che è anche carreggiabile nell'area a monte che si colloca tra gli abitati di Domegge e Lozzo, una zona molto frequentata anche per la presenza di numerose baite dove la gente del posto trascorre il tempo libero. Don Simone, che ieri ha radunato la devozione della sua comunità per la Madonna del Carmine, conosce bene il luogo e la piccola nicchia. Mi dispiace anche per la famiglia che conosco bene e che aveva cura di quel capitello. Ci sono stato per benedirlo. Viene appunto detto da Don Simone Ballis. E con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi, torniamo come sempre, come sapete, domani mattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e poi potete seguirci anche in video sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo, oltre che su tutti i social. Seguite anche le notizie che pubblichiamo giornalmente sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it Grazie a tutti per l'ascolto, un buon inizio settimana e ci rivediamo prestissimo. Grazie.